Oggi è l'11 agosto, l'Azzurro si trova sulle sponde del Baikal, oggi tenterà un'impresa storica, va bene che per i russi non è, ma per un italiano fare il bagno in uno dei laghi più freddi che ci sono. Temperatura esterna è comunque decisamente accettabile, saremo sui 24, 22, c'è effetto vento che comunque distorge senso di caldo. C'è un po' di cani che fanno casino, l'acqua non è delle migliori, nemmeno le gnocche, ma ci si accontenta. L'azza Maduro ha detto che potete spaventare, per vedere le potezioni che spaventano. Ti metti la crema prima di andare all'acqua? Ti metti la crema prima di andare all'acqua? Non, per farlo. Ah, quindi chi va spaventare il tuo? Io? Io? Ok, quindi andiamo. Non ho troppo batteria in la camera. Poi andiamo spaventare. Ok, filmate. Già, filmate. E poi, avanti. E poi, avanti, avanti. Avanti, avanti. Sì, guarda. Sì, sì, sì Let's go Stop, stop Stop